Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, io sono Altair e oggi vi mostrerò come avanzare con la storia della stagione dei tesori. In questo video non parlerò ma nei punti in cui ritengo importante qualcosa vi scriverò che cosa dovrete fare e ho preso questa decisione perché fino a quando il tutto sarà repetitivo per andare avanti con la storia della stagione non avrà senso spiegarla a voce. Quindi detto questo se il video vi sarà d'aiuto e l'avrete trovato utile vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella così da potermi supportare. Per il resto vi auguro una buona visione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Mentre ti prepari per il prossimo viaggio sappi che continuerò ad aiutare nel conflitto contro Eramis. Ho parlato con Misrax Kell del suo recente atteggiamento. Ha spiegato che voleva proteggermi dalla violenza degli equipaggi di Eramis Kell. Ho detto che non si può proteggere vietando di esporsi. Non c'è sicurezza nell'ignoranza. Gli ho detto che non mi serve alcuna protezione. Come affermano i guardiani, dalla devozione nasce il coraggio. Dal coraggio il sacrificio. La frase non detta che segue è il motivo per cui resterò alla radio. Ora dobbiamo continuare la ricerca delle reliquie bramate da Eramis. Sali sulla tua nave e iniziamo. Allora, ora dobbiamo continuare la ricerca delle reliquie bramate da Eramis. Ottimo lavoro, prode! Vederti raccogliere tutto quel bambino, mi ricorda! Chiunque abbia provato ad abbattere quei... Chiunque fossero ora si sono fatti nemici potenti. Già, anche noi. Ho appena parlato con il ramingo. Dice che un'altra forza ha assalito i pirati di Aramis. Se tu ed Aramis non siete i soli a cercare le reliquie, la cosa potrebbe sfuggire al mio controllo. Credevo che potessimo recuperare le reliquie e contenerne il potere. Tenerne al sicuro. Guardiana, ci sono dettagli che ho tenuto nascosti. A te e a tutti. Io devo chiederti di avere pazienza. Troverò una risposta. La troverò. Fidati di me. Ancora per un po'. Ti prego. Ti prego. Di che cosa hai bisogno? Guardiano. 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 Il tuo lumen è sempre ben gradito. E' un po' qui.